Siamo a Salò, alla libreria Ubic, in compagnia di Rita Ann Armeni, che presenta il libro di cui è curatrice, Parola di Donna. Un libro in cui riunisce 100 donne, 100 grandi donne italiane del mondo della cultura, dello spettacolo e della politica, che raccontano, parlano di 100 parole. Ci vuole raccontare un po' questo libro, come nasce l'idea di questo libro e com'è nata l'idea della scelta delle parole delle donne? Questo libro è nata da una convinzione che le donne avessero fatto una grandissima rivoluzione che era rimasta silenziosa e che il modo migliore per dimostrarla, per far venire fuori questa rivoluzione era far vedere come erano cambiate le parole. Le stesse parole, le parole comuni, le parole che usiamo tutti i giorni hanno assunto un significato diverso in questi 30-40 anni e questo è dovuto alle donne perché il cambiamento delle parole significa il cambiamento della realtà. Allora, non so, pensiamo alla parola famiglia, no? Cos'era 30 anni fa, 40 anni fa la famiglia, che cosa è adesso? Ecco, se quella famiglia è cambiata, se all'interno della famiglia sono cambiato il marito, sono cambiati i figli, è cambiato il concetto di moglie e molto è dovuto alle donne, anzi, secondo me quasi tutto. Da qui è nata l'idea di affrontare 100 parole e di vedere quasi come un esempio, proprio perché il cambiamento è così grande e ne potevo prendere 300 di parole, invece ne ho prese 100. Devo dire che è stata una scelta mia, nel senso che sono le parole... molte ne mancano, eh? Molte ne mancano. Chiedeva se qualcuna ne fosse rimasta fuori, infatti. Ne mancano molte, tantissime, quasi tutte, però secondo me quelle che ci sono rendono, riescono a rendere già il cambiamento. Naturalmente queste parole io potevo, non so, pensarci io di scriverle, in realtà ho pensato che la cosa migliore era che ci fossero 100 donne e che ciascuna di loro scrivesse una parola, quella che gli era più adatta, adatta a lei per competenza, per studi, per professionalità, per passione, per desiderio e quindi ho scelto 100 donne. 100 donne che, come hai detto tu prima, sono donne che, diciamo, occupano posti di eccellenza nella società. Ci sono sociologhe, storiche, giornaliste, scrittrici, registe, sindacaliste, politiche, insomma ci sono tutte donne e ciascuna di loro ha... non ha scelto, devo dire, perché molte volte ho scelto io, ma ha consentito, qualche volta ha cambiato, c'è stata una discussione, a prendere una parola e a far vedere come questa parola si fosse modificata. Secondo me ne è venuto fuori un libro molto vario, molto variegato, assolutamente, come dire, in cui c'è una soggettività di queste donne, molto evidente, perché ciascuno l'ha fatto per come lei, le scrittrici hanno scritto come le scrittrici, le sociologhe come le sociologhe. Quindi un libro in cui ci sono linguaggi diversi, poi naturalmente ci sono diverse ideologie, perché ci sono donne di destra e di sinistra. Ci sono donne di diverse generazioni, Melissa Pia a 25 anni e Marisa Roda non è a 90. Ecco, quindi una cosa molto, molto composita. Devo dire che la cosa interessante, anche per me che l'ho curato, perché poi a un certo punto le ho viste tutti insieme, quando ho finito di disperarmi perché non arrivavano i pezzi, ho potuto finalmente guardarli tutti. Devo dire che anche per me questo libro è stato una sorpresa, perché dietro tutta questa varietà e diversità c'è, secondo me, una grande compattezza. E mi sono anche chiesta, devo dire la verità, che cosa fosse questa compattezza, visto che non poteva essere generazionale né politica né di mestiere, perché erano professioni diverse. E secondo me, a pensarci bene, la compattezza è la compattezza di un'esperienza femminile, vissuta con consapevolezza da chiunque, che queste donne hanno messo nella scrittura di questa parola. Io devo dire che alla fine ne sono molto contenta, molto soddisfatta. Invece mi sono chiesta, proprio perché questo è un libro esclusivamente di donne, se magari un domani ci dovesse essere una versione maschile di questo libro, secondo lei, è possibile? Guarda, è una domanda che mi sono posta anch'io, e che ho posto, anzi me la sono proprio posta alla fine, mi sono detta, ma cento uomini avrebbero accettato di scrivere cento parole. Mi sono posta questa domanda, sai perché? Perché alla fine del libro mi sono reso conto che queste cento donne mi avevano tutte detto di sì, detto di sì con entusiasmo, erano state più o meno puntuali, erano state contente di farlo. E devo dire che questo secondo me era un fatto politico, cioè non poteva essere un fatto, come dire, affettivo, emozionale, anche perché io queste donne, alcune erano mie vecchie amiche, altre non le conoscevo per niente, altre avevo dei rapporti professionali, telefonici, dovuti al mio... Quindi com'è che tutte mi hanno risposto così? Da qui la domanda, un uomo l'avrebbe fatto? È una domanda che io, non sapendo rispondere, ho posto da alcuni uomini. E tutti mi hanno detto, con grande tranquillità, che no, non l'avrebbero fatto. Ma non loro, gli uomini non l'avrebbero fatto. Per un motivo molto semplice mi hanno detto, perché agli uomini, quelle cose lì che ci sono in quel libro, in fondo, non interessano. Allora io mi sono detto, beh, certo, se agli uomini non interessa, ancora, che cos'è la politica, che cos'è il desiderio, che cos'è la paternità, che cos'è l'erotismo, che cos'è la libertà, che cos'è l'eguaglianza. Beh, allora, siccome poi loro il potere ce l'hanno, beh, in mano a chi abbiamo messo il potere? E questa è una cosa che mi ha un po' sconvolto, devo dire. Però questo è il punto, credo. Un'ultima domanda, a proposito di potere, Per quanto riguarda l'Equaterosa, secondo lei è un male minore, oppure è una reale soluzione, diciamo, per questa situazione in cui, diciamo, le donne al potere ce ne sono ancora poche, diciamo, rispetto agli uomini? Guardi, non è la soluzione, nel senso di quello che si intende con tutta la lettera in maiuscole, sicura, decisa, però, secondo me, è qualcosa che può smuovere fortemente. Io sono stata sempre, sono, quando ero più giovane, ero una fermamente contraria all'Equaterosa. Dopodiché, invece, adesso sono fermamente favorevole, e non credo che sia dovuto all'avanzare degli anni, perché in genere sono diventate un po' più audace, persino con l'avanzare degli anni. Io credo che sia dovuto al fatto che ho proprio constatato che c'è nella società italiana una tale resistenza, ma così atavica, così forte, che qualunque elemento esterno destabilizzi questa cosa. Magari poi non è completamente quello che vogliamo, però è molto importante. Devo dire che l'ho fatto anche su un'altra riflessione che mi ha, alla quale mi ha fatto pensare uno statistico, non uno statistico, il quale mi ha detto, beh, in realtà, quando si parla di quote, si parla di merito. Perché? Facendo l'ipotesi che l'intelligenza è equamente distribuita tra uomini e donne, e questo credo che nessuno possa ormai contestare, nessuno dice il cervello delle donne è più piccolo, più bravo, intelligente di quello degli uomini. Quindi, se ci sono 100 uomini, è chiaro che ci sarà il più intelligente, il 100 è a scalare, diciamo, il meno intelligente, che è zero. Idem per le donne, no? Allora, se su 100 posti, diciamo in Parlamento, tanto per fare, gli uomini ne prendono 81, 81, come adesso, e le donne ne prendono 19, è chiarissimo che 31 sono di persone che valgono di meno, e che invece ce ne sono, ci sono 31 donne che valgono di più, che non ci stanno. E allora, in un'istituzione, non abbiamo a questo punto la possibilità di avere il meglio dei due sessi, ma abbiamo sicuramente, non sappiamo se è il meglio del sesso femminile, perché poi quel 21 viene scelto dall'80%, ma sicuramente abbiamo anche il peggio di quello maschile. Bene, la ringraziamo moltissimo per la disponibilità, e in bocca al lupo per il libro, che insomma avrà moltissimo successo, già lo sta avendo, e grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.